Innanzitutto i bollini, che i bambini non sono neanche che cosa siano i bollini, soprattutto le regole, buchina, chi le sa le regole della buca? I rally, quanto me ne pare, che si facevano all'anfiteatro, si facevano in fortezza, e poi ruba bandiera, tiro la fune, si fa il tiro dei barattoli, gli anelli, insomma i giochi di una volta, i giochi con cui noi, piccoli, con i pantaloni corti, ci divertivamo. Un pomeriggio di festa dove nonni e nipoti potranno trascorrere assieme momenti di gioia con i giochi dei tempi che furono. Torna così sabato 24 giugno, dalle 15.30 alle 19.30, i giochi dei nonni sulla collina di Castelsecco. È un po' il ricordo di questi giochi che facevano ai tempi dei nonni, che oggi vogliamo vedere di ritrasmettere ai giovani di oggi, ai bambini. In più c'è anche la conoscenza, perché ci siamo resi conto che ad Arezzo non tutti conoscono questo bel luogo, Castelsecco, e poi alla fine con la merenda anche raccogliamo un po' di soldi per il Calcite. Tutto quello che facciamo nel parco archeologico di Castelsecco serve per farlo conoscere, farlo frequentare, e quindi è una scoperta che tende a valorizzare un luogo che è unico, bellissimo. E soprattutto in momenti come questi, quando poi è riempito anche dai ragazzi che giocano come giocavano una volta i loro nonni, ecco questo credo che per noi è il massimo di vedere questo luogo così apprezzato.